Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di questo fine settimana. Intanto continua la chiusura del tratto di corso Sacco e Vanzetti tra Corso Regina Margherita e Strada Antica di Collegno. Sino al 5 gennaio la linea 10 è gestita con autobus sull'intero percorso. Domani sabato alle 12.30 all'Allianz Stadium, l'incontro di calcio di Serie A Juventus-Sampdoria dalle 15 di domani, marcia dei bambini e dei ragazzi da Piazza Borgodora a Piazza Alimonda, Porta Palazzo, Porta Pace. Per quanto riguarda la giornata di domenica non ci sono particolari informazioni utili se non informarvi che i mercati rionali di alcune zone rimarranno aperti. E poi l'appuntamento sarà per il 31 dicembre per la festa di Capodanno. Nessun'altra informazione utile? Buona serata, buon fine settimana, buon viaggio dalla Polizia Municipale Torino.